Camarda Milan, riso non quello da mangiare scotti, Gela Furlani, ossia il procuratore dell'attaccante rosso-nero, c'è la Premier all'orizzonte. Auguri al nostro bello de nonna Alessandro Florenzi per i suoi 33 anni. Occhio Milan, si può chiudere con il talentino del Real Madrid, Gouler. Pioli Milan, scenari completamente stravolti ed ora Tiago Motta, il tecnico del Bologna, è più lontano dai rossoneri, ma occhio perché da Milano una foto con Fedez e Parrucchino, Toninio Conte, fa impazzire quella parte di milanisti che di milanisti hanno neanche l'unghia del mio pollice indice medio annulare e questo mignolo neanche si fa baciare. Ecco, neanche questo si fa baciare dai conti, avete capito? Bene, questo è altro in questa scoppiettante puntata qui sulla tribù rossonera. Ebbene, signore e signori, buongiorno e buon lunedì 11 di marzo a tutti e bentornato qui sul canale del Marietto Milanista. Stiamo entrando nella settimana chiave della stagione rossonera che coincide tra l'altro giovedì con il mio 46esimo compleanno. Quindi ragazzi vi chiedo questo bel regalo perché già ieri l'inizio di questa settimana promette bene con il Milan al secondo posto. Juve scavalcata dopo una rincorsa dove ci siamo trovate addirittura a 7-8 punti di distanza e abbiamo scavalcato la Juve. Siamo secondi a 16 punti dall'Inter. Ovviamente non è mai bello stare sotto quelli lì, però il campionato dell'Inter quest'anno obiettivamente è stato come lo scorso quello del Napoli. A senso unico, cioè una squadra che è stata un'armata dall'inizio fino adesso e dunque ci si aspetterà soltanto poi la data che spero non sia il 21 aprile, che già ben sappiamo il perché, che festeggeranno questa seconda stella di cartone. Oggi uscirà un nuovo contenuto su l'altro mio canale, La Tribuna e il Pallone, che nel frattempo ha superato i 600 iscritti, quindi grazie. Però ho visto nell'ultimo video più di 6.000 visualizzazioni, 600 iscritti, vuol dire che ci sono tanti genovesi che ancora vengono lì, guardano e se ne vanno. Ma quello lì è il canale del tifoso di ogni squadra. Lì si parla di calcio a 360 gradi con quegli argomenti di approfondimento, non le cazzatine da mainstream, giornali e giornalacci di tutti i giorni. Quindi ti invito anche ad entrare nell'altro mio canale, così come grazie a coloro che oggi farò la diffusione nei social, questo fine settimana non ho potuto, dell'altro canale, Saggezza Popolare, perché questo fine settimana ho tirato fuori un contenuto davvero da brividi che servirà a tutti voi, ne sono certo, certissimo. Quindi anche Saggezza Popolare, l'altro mio canale e infine il quarto canale, voi sapete io ho quattro canali, domani uscirà il contenuto di Delirium Italicalcium con tutti i miei personaggi. Anche lì siamo vicini quasi ai 400 iscritti, ma mi sorprende che con le visualizzazioni che ci sono non ci si iscriva al canale. Ma vabbè, siamo in epoca forse di vacche magre. Allora iniziamo dai giornalacci proprio di stamattina dove la gazzetta interista dello sport, a parte un soprapagina diciamo, subito dopo la scritta della gazzetta, follia daversa testata e rischio esonero. Il tecnico del Lecce colpisce Henri, l'attaccante del Verona a fine gara, ora gotti o semplici. Poi dall'altra parte dicono addirittura il tutto Juve Sport, daversa che follia il Lecce lo licenzia e daversa che follia è pronto l'esonero Corriere dello Sport. Quindi ancora non ho capito se siamo sulla via dell'esonero, già l'hanno esonerato, già sta licenziato. Se stiamo lì a sentire tutte le storie che escono da questi giornalacci ovviamente non ci si trae nessuna verità, come sempre. Dicono sempre mezze cose, cose a metà. Passa la Cop, la Corriere dello Sport di Roma oggi ha voluto fare la battuta. Passa la Cop, la Cop sei tu chi può darti, chi può darti di più. Vi ricordate quando erano, per chi come me era piccolo con le pubblicità degli anni Ottanta della Cop, che sarebbe questo supermercato italiano che non so neanche se esiste più perché io sono più di vent'anni che non vivo in Italia, quindi non lo so. Comunque passa la Cop però con la K. Cop Miners, i due gol dell'olandese, obiettivo di mercato, freno allegri, sta andando veramente alla grande questo centrocampista dell'Atalanta che secondo me l'anno prossimo sicuramente andrà in una squadra di un livello superiore all'Atalanta. Senza nulla togliere comunque Bergamaschi che fanno un lavoro grandioso con dei giovani quasi sconosciuti e poi Gasperini per quanto mi stia antipatico fa un lavoro eccezionale sui giovani, bisogna essere onesti. Ma la prima pagina della gazzetta interista dello sport oggi è davvero, cioè è qualcosa da far venire i brividi, però fino a un certo punto capirete il perché. Pioli sorpassa e rilancia e quindi il sorpasso alla Juve, secondo posto e i Pioli out ancora per l'ennesima volta gli dico ma voi di calcio ci capite? No, non lo so perché uno che, a parte l'Inter che sta facendo un campionato a parte, cioè il Milan è subito dopo. Cosa dovrebbero dire i tifosi della Juve con Allegri piuttosto che del Napoli che dopo uno scudetto allucinante lo scorso anno si trovano settimo, ottavo posto? Cosa dovrebbero dire loro? Cioè purtroppo c'è nel coloro che si autodefiniscono milanisti una bassezza da questo punto di vista che ormai è chiara ed evidente anche perché i risultati lo dicono chiaro. Cioè, siamo già fuori da tutto, fuori dallo scudetto, fuori dalla Champions League, fuori... Cioè questo è il disfattista. E poi c'è il milanista. Il milanista si rende conto che da agosto c'è stato, da luglio, un cambio totale a livello societario, senza più Maldini, Massara, un Pioli che è rimasto da solo senza avere l'appoggio praticamente di una figura così importante fino a quando non è arrivato adesso Zlatan Ibrahimovic, ma da poco, con una marea di infortuni dove bisogna segare le gambe allo staff atletico e medico, come ha fatto Ancelotti con Real Madrid. Quella è l'unica colpa che può avere Pioli. Ma Pioli che ci può fare? Con questa squadra sta facendo veramente il massimo, il massimo. Ma non abbiamo, a parte Pulisic, Mignon e Teo Hernandez, che non sono comunque, ripeto, top player. I top player sono quelli che vincono già delle Champions, vincono delle Coppe del Mondo. Cioè stiamo parlando dei livelli di Ronaldo, di Messi, di Haaland, Mbappé, giocatori che sono già a livelli stratosferici. Il Milan ha degli ottimi giocatori, ma non abbiamo top player. E nonostante tutto, siamo secondi. Quando inizio stagione ancora ci dice una squadra da quarto, quinto posto. E siamo secondi, sempre grazie, anzi no, per colpa, no, perché almeno entro nelle grazie anche dei Pioli out, no? Per colpa di Pioli siamo secondi. Cacchio, immaginati se aveva ragione dove eravamo. E in più, in Europa League, siamo ancora lì, non è che siamo usciti. Cioè, sembra il Milan che è già uscito anche dall'Europa League. Cioè, dopo la prestazione con lo Slavia, boh, stasera ne parleremo tra l'altro. Il processo lunedì rosso-nero alle 23.15, due ore dopo perché ho degli impegni lavorativi o delle call lavorativi online. Quindi non posso esserci prima stasera, mi spiace, perché avrei voluto affrontare certe tematiche in maniera un po' più approfondita. Però faremo un processo express con chi degli soliti ospiti del lunedì ci potrà essere. Inizieremo alle 23.15 e durerà massimo un'oretta, perché poi si fa troppo tardi, ovviamente. Massimo mezzanotte e mezza, cioè un'ora, un'ora e un quarto, si chiude. Affronteremo in maniera molto elastica tutti gli argomenti che devono essere affrontati. Dunque, e quindi mi tengo il Milan. Gol di Pulisi che Eppoli ha battuto. E secondo posto, l'allenatore risponde a Ibra. Voglio restare in restare, mi viene quasi in stile cinese, in rosso-nero. E dunque cosa dice, dopo le parole che tanto vogliono mettere delle parole in bocca a Ibra l'altro giorno, che ha parlato come dirigente, ovviamente, in maniera diplomatica su Pioli, ma realmente quello che ha detto è quello che pensiamo anche noi milanisti. Noi siamo soddisfatti di Pioli. Io sono soddisfatto. Poi che possa aver fatto degli errori, ma anche dovuti a tanti infortuni e altre storie, perché noi giochiamo anche contro le squadre, non è che giochiamo contro il muro, contro la parete. Noi siamo veri milanisti soddisfatti di Pioli. Ovviamente, come ho detto ieri nel post-partita, non aspettatevi in questo momento il ristorante con caviale e champagne e con la nouvelle cousine francaise. Ci andiamo a mangiare una bella porchetta, una salamella con panino mortadella, un buon vino, e ci saziamo lo stesso, ossia con delle vittorie. Adesso non è il momento, e ve lo sto dicendo già da più di una settimana, dopo anche la vittoria con lo Slavia, 4-2, piuttosto che l'1-0 rocambolesco dell'Olimpico di Roma, o anche ieri con l'Empoli. In questo momento, in questo momento, che siamo arrivati al quagliare, al dunque della stagione, a me del gioco, ve lo dico sinceramente, me ne può fregare di meno. L'importante sono i risultati che ci assicuriamo, il posto in Champions League, il secondo posto è un'ottima posizione, è un'ottima posizione. È ovvio che tutti noi vorremmo vincere, ma non è che puoi vincere i Scudetti tutti gli anni. E allora anche le altre squadre che stanno lì a guardare, scusate, questo è l'anno dell'Inter, nel bene e nel male, dentro e fuori dal campo, è l'anno dell'Inter, punto. E noi, nonostante tutto, siamo in secondo posto, siamo riusciti a scavalcare la Juventus. Che cacchio volete? Di più, veramente, a volte impazzisco su certi commenti. Cioè, c'è roba che poi, lo vediamo da un punto di vista tecnico, è vero, non è esteticamente un Milan bello che va in giro con me, con Versace e tutte le cose fighe di Valentino. Andiamo più in giro con robe da mercato. Chi se ne frega, siamo coperti, non è che andiamo in giro nudi, no? Quindi, il Milan vincente, non convincente da un punto di vista estetico, ma compatto, che porta a termine il risultato, che è quello che vogliamo, la vittoria. Quindi, c'è poco da ragionare. Ma che vinci 1-0, io firmerai 1-0 fino a fine campionata, non me ne frega a me. Cioè, se questo ci garantisce il posto sicuro in Champions, se questo mi garantisce di vincere l'Europa lì, ma vinciamo 1-0 fino a fine campionata, ma che me ne frega a me. Adesso sto pensando, no, però non gioca bene, però il gioco è no. E possiamo ragionare su queste cose. Ma poi, nel calcio, quello che conta, alla fine, è come diceva il grande vecchio Boscov. L'importante è che quando arbitro fischia, noi avere un gol più dell'avversario. Giusto? Ah, ecco. Quindi, Pioli verso la conferma è la strada giusta. Adesso si sveglia pure la gazzetta con questi titoli. Allora, che dice? Allora, riprendendo le parole di Stefano Pioli, il club mi ha sempre messo nelle condizioni di fare bene, ho sempre sentito fiducia e sostegno, penso che si parli troppo del futuro, perché il futuro è incerto per tutti, ovvio. Non sappiamo quello che dobbiamo mangiare oggi, figuriamoci tra qui a due o tre mesi quello che succede. Voi 2020, il gennaio 2020, vi aspettavate quello che poi è successo, di tutte le storie che abbiamo vissuto? No, non me l'aspettavo. Allora, cosa parlate prima? Cioè, vivetevi il presente. Here and now. Qui è ora. Qui siamo tutti concentrati sul presente. Ecco. Ma è un guru, Pioli. È quello che conta di più. Al Milan sto vivendo qualcosa di eccezionale, sto dando tutto da quando sono arrivato, ho ricevuto tantissimo, critiche comprese, ma è normale che sia così. Sono felice e soprattutto motivato per cercare di far sì che questa cosa duri il più a lungo possibile. Io dico da anni, da quando è arrivato Pioli, fateli un contratto stile Ferguson, vent'anni, che vi piaccia o non vi piaccia. Se non vi piace, cambiate squadra. Ferro e rivali. Io Pioli non lo cambio per nessuno di quelli presenti e papabili, Conte compreso. L'ho già detto e ripetuto a più riprese. Solo tre. Klopp, Guardiola o Ancelotti. Sono gli unici che mi farebbero vacillare e dire, beh, ma lì sarebbe entrare nel top allenatori. Ma oltre questi, non ci sono top allenatori. Perché De Zerbi non è un top allenatore. Tiago Motta non è un top allenatore. Sono comunque delle promesse. E le promesse, dagli tempo per vedere effettivamente se poi queste promesse sbocciano. Ok? E lo stesso di Casiper Conte, come Murigno, è lo stesso ragionamento. Sono due bolliti che dove vanno creano solo casini all'interno di spogliatoio, con le tifoserie. Cioè, quindi lasciate perdere. Non è stile Milan quello. Ci siamo capiti? Oh, e che cacchio. la potete capire in quella zucca che avete lì di coccio, certi di voi. Non tutti, fortunatamente, perché chi mi segue la tribù lo sa benissimo. Quindi, ovviamente, la partita con lo Slavia serve un atteggiamento diverso rispetto all'andata. Ma questo sono io e lo sto dicendo a più riprese, che sia chiaro. Però, non buttate nel cesso veramente un lavoro che sta portando avanti degnamente, egregiamente, da quattro anni e mezzo con una squadra di scappati di casa che abbiamo. Non abbiamo top player. Dai, parliamoci chiaro. Da quando è arrivato, è arrivato un secondo posto, uno scudetto, una semifinale di Champions League dopo 16 anni. Adesso possiamo giocare un titolo, speriamo, europeo finalmente. Siamo ancora al secondo posto, non è che stiamo viaggiando. Ebbè, è un mediocre. Giusto arriviamo in Europa lì, sesto, settimo posto, ottavo posto, così come abbiamo vissuto dal 2012 al 2019. Cioè, più del sesto posto non l'abbiamo fatto. Da quando c'è Pioli già siamo arrivati, secondi, vinto lo scudetto. L'anno scorso è vero, siamo arrivati i quinti, ma siamo pure arrivati in semifinale di Champions League. Adesso siamo secondi, siamo ancora online e on fire per quanto riguarda la finale di Europa League. Sì, dai, fatti bravi, dai, sì. Non è che abbiamo Van Basten, Gullit, Rijkaard e Compagnia Bella in squadra, non abbiamo i Savice, il Baggio e A, non abbiamo i Boba, non abbiamo i Scherchenko, Inzaghi e Gattuso e Pirro e Sedov. Dai, sì. Parliamoci chiaro, fatti bravi. Cioè, questo che sta facendo Pioli è un signor lavoro, un signor lavoro e si merita la riconferma, nonostante tutte le voci dei Pioli out. E se non vi piace, cambia squadra, cambia squadra. Non abbiamo bisogno di negatività nel milanismo. Questo momento è talmente importante per la stagione che se non c'è compattezza, scambia, scambia come le figurine, cambia squadra. Oh, perché il milanismo è un'altra roba e ve lo devo fare venire ogni volta lì con la foto di quando ero un bambino in Serie B. Dai, sì, non fate i Matusalemme, sempre i lamentori. E che palle, mamma mia, rogarmine. Vabbè, comunque, il top club che sarebbe all'assalto di Camarda sembra il Paris Saint-Germain, secondo delle fonti che arrivano vicine al giovanissimo attaccante del Milan e che arrivano direttamente dalla Francia. Però, sembra che invece il Milan abbia già trovato un accordo dall'1 di luglio per far sì che i tre anni che scattino, se lo fai adesso il contratto, sarebbe fino al 2026, ma se lo fai dal primo di luglio sarà fino al 2027. Capito? Ci arrivate? Dunque, e poi sta cosa dell'Inter è sempre perché devono scatenare putiferi o giornalacce, voi ci credete come sempre come delle pecorelle da gregge, giusto? Allora, poi sto discorso di Guler, Guler e il Milan. Si può fare perché il ragazzo non sta trovando spazio con i Blancos, una situazione che era già successa anche con Teo Hernández e Brahim Diaz, abbiamo buoni rapporti con la dirigenza del Real Madrid. Secondo calciomercato.com il Milan sarebbe disposto in estate a prenderlo in prestito, ma riservandosi quantomeno un diritto di prelazione o comunque di riscatto. Ovviamente sarebbe da convincere il giocatore che al momento sembra abbastanza concentrato sul Real Madrid. Quindi parler pur parler adesso di calciomercato è dire strunzete. Parler pur parler uguale strunzete. Ve lo dico, un misto Barres Frances. Ci siamo capiti adesso come calciomercato torna di moda Zaniolo. Ogni due per tre sparano dei nomi per... La gente... Wow! Wow! Sai voi ci credete pure, ma siete... Io vi dico ragazzi guardate che c'è l'asino che sta volando e voi... Sì, le scie che ci sono in cielo quelle sì che ci sono e sono costanti. Poi fanno i Tetris, fanno i Cruciverba in cielo, chissà che cosa servono tutte quelle robe che stanno facendo in cielo. Poi c'è chi come me lo sa già, è geoingegneria per altre questioni. Però voi vi credete tutto quello che vi dicono giornali e giornalacci e ovviamente come i pulaster cadete poi nelle loro trame oscure e poi per concludere per concludere il discorso dell'attaccante il Milan non è contento Zirk Zì è sempre un nome papabile tutto qua però ci sarebbe anche il dubbio proprio sull'attaccante sembra che il Milan dovrebbe fare questa famosa rivoluzione lì davanti perché? Perché sì Pulisi non si tocca Giroud è Vicchiariel c'ha l'età c'ha ormai 38 anni il ragazzotto che comunque io me lo terrei anche come sostituto ma per il gruppo voi sapete la mia idea qual è sui senatori bisogna tenere almeno due o tre senatori in squadra per dare anche un po' di buffettate ai ragazzini per svegliarsi e far capire cosa vuol dire portare addosso si sacri colori quindi ovviamente è questo poi sulle AO non penso che ci saranno delle rivoluzioni anche perché deve arrivare un club che ti mette sul piatto almeno 175 milioni quindi non te lo mette nessuno Okafor io gli darei fiducia anche l'anno prossimo ovviamente i due che sono arrivati uno nell'ultimo giorno di mercato Luka Jovic e soprattutto Ciukueze lasciano dei dubbi soprattutto Ciukueze Ciukueze io vi dico la verità mi aspettavo molto ma molto di più da lui è vero che si è messa la Coppa d'Africa in mezzo è vero che c'è stato anche un infortunio quindi non lo so però per quello che avevo visto qua in Spagna col Villareal che era il terzo driblomane di tutta la Liga e vederlo nel Milan secondo me ha avuto delle difficoltà di inserimento e qua arriviamo a un discorso stile De Quetelar ossia De Quetelar nel Bruges faceva faville nel Milan è arrivato ed era come lì uno perso nel deserto non sapeva dove si trovava arriva una squadra come l'Atalanta che è una squadra provinciale come il Bruges e lì riesce a fare meglio lo stesso di casi Ciupuese Ciupuese viene dal Villareal non è una squadra come il Real Madrid il Barcellona o l'Atletico Madrid che sono squadre di livello già a livello spagnolo viene dal Villareal che è una buona realtà io la metto allo stesso livello dell'Atalanta da questo punto di vista sono ottime realtà provinciali ma non sono dei top club quindi una cosa è giocare al Bernabeu e una cosa è giocare al campo del sottomarino giallo del Villareal una cosa è giocare a San Siro e una cosa è giocare nel campo del Bruges o lo stadio dell'Atalanta cioè sono cose ben diverse giusto? ecco quindi ci sono giocatori che hanno caratteristiche che possono sfondare nei top club e giocatori che no e secondo me Ciupuese col Milan no Jovic 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 è un giocatore dagli alti e bassi secondo me ce li ha anche i numeri però l'errore che secondo me ha fatto però ha fatto e anche era messo in condizione per far rifiatare Giroud non è che abbiamo altre soluzioni secondo me a meno che vuoi giocare con un falso 9 e lì ci mette un altro giocatore però Jovic non è una prima punta lo sappiamo Jovic le piace girare attorno alla prima punta più seconda punta e soprattutto quando è subentrante che fa male e incide non dal primo minuto io credo che Jovic ci si potrebbe dare un'altra possibilità ancora e quindi tenermi nel pacchetto di attaccanti tanto Giroud che Jovic non come titolari io andrei su 9 come Dio comanda uno che ti garantisce sicuri 20-25 gol in una stagione loro due li terrei perché uno sarebbe più da seconda punta quindi può dare delle alternative come Jovic gli ultimi 20 minuti 25 e Giroud ovviamente è per l'esperienza quindi me lo otterrei ma con la salita poi in prima squadra a meno che cioè il Milan fermando Camarda che ha 16 anni con la squadra sicura Hunter 23 in serie C glieli farei fare un anno al nostro Camardinio che arriverebbe quindi ai 17 anni 16-17 con poi convocazioni anche possibili in prima squadra ovviamente quando ci sia la necessità quindi allenandosi anche lì a Milanello le due squadre tanto la primavera che la prima squadra che diventerebbe non primavera ma under 23 ovviamente sarebbe sempre in stretto contatto con la prima squadra quindi i 4 attaccanti rimarrei con Giroud e Jovic come alternative Camarda che è quell'alternativa tra under 23 che si giocherà la Serie C l'anno prossimo e poi un numero 9 nuovo che deve essere preso si parlava di Sesco piuttosto che ne so io di com'è che si chiamava quell'altro di David del Lille che tra l'altro ieri ha fatto un partito cioè gli ultimi minuti se non sbaglio ha fatto doppietta ha perduto 2-0 Lille Corren in casa 2-0 nel campionato francese poi ha fatto 2-2 gli ultimi 10 minuti ha fatto doppietta quindi un attaccante secondo me che ci può stare e Zirk Z ci sono questi nomi che Zirk Z ovviamente se io dovessi puntare una fish su qualcuno punterei sempre su qualcuno che già conosce il nostro caricio non che ex nuovo arrivi quindi c'è bisogno di ambientarsi ci vuole del tempo e stiamo sempre appunto da capo questa è la mia personale opinione detto questo fammi sapere nei commenti in basso accompagnati da un like da iscrizione condivisione ovunque comunque dei miei contenuti stasera come già vi ho detto qui sulla tribù rossonera ci sarà un processo lunedì express però dalle 23.15 quindi due ore dopo rispetto al normale per dei miei impegni lavorativi nel pomeriggio uscirà un nuovo contenuto il contenuto del lunedì un approfondimento sull'altro mio canale la tribuna del panore quindi come vedete con me siamo sempre presenti ci siamo sempre anche sul mio canale per chi volesse entrare facebook è aperto a tutti c'è il link in basso se vuoi entrare in facebook piuttosto che sto pensando eventualmente di aprire perché c'è un telegram solo per abbonati whatsapp solo per dei senatori e poi magari aprire un canale telegram lo sto pensando vediamo come va stasettimana aperto a tutti che chiunque vuole entrare però con delle condizioni che io poi metterei perché ci sarebbero li farei entrare su richiesta le persone e su delle domande ovviamente chiave che riguardano il Milan non faccio entrare cani e porceli quindi me lo sto pensando fate passare stasettimana che anche con il mio compiliano c'è altri cazzi per la testa altre cose quindi ci penserò però può essere un gruppo aperto a tutti quello di telegram però vi dirò successivamente ok detto questo buona giornata buon lunedì in questa settimana decisiva do un bacio agli amici un forte abbraccio a tutti gli amici e sempre forza Milan ovunque e comunque ciao ciao